Salve a tutti, sono Manuela, ho 43 anni, sono una casalinga e vivo in un paese della provincia di Messina. Da pochi mesi sono diventata una corsista dello chef Andrea Di Giglio, della Di Giglio Academy. Mi piace molto preparare dolci, specialmente per la mia famiglia, ma anche farli assaggiare ai parenti e agli amici. Ho conosciuto Andrea Di Giglio tramite Youtube mentre cercavo una ricetta di cornetti sfogliati e devo dire che sono rimasta molto colpita nel modo di come lui spiegava dettagliatamente la ricetta. Prima di conoscere lui avevo provato molte ricette di cornetti sfogliati e devo dire che non ero mai rimasta soddisfatta del risultato. E quindi ho provato la sua ricetta e devo dire che sono rimasta molto felice del risultato. E allora ho provato altre ricette, sempre quelle che lui pubblica su Youtube e ho capito che era la persona giusta per finalmente poter spiegare la pasticceria. E mi sono iscritta al corso di base e devo dire che sono molto contenta, sono molto felice dei risultati che sto ottenendo. Poi lo chef, oltretutto se hai bisogno di aiuto, lui ti assiste sempre, ti dà molti consigli, è sempre lì che ti aiuta, insomma non ti lascia mai da sola. Posso dire solamente che questi corsi dello chef li consiglio vivamente a tutti perché veramente sono dei bellissimi corsi.